Dopo colazione, il tempo dovrebbe reggere. Sì, è una buona idea. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere! Codsworth, che succede? Seguito da... sì, seguito da lampi. Lampi accecanti, suoni di esplosioni. Sì, stiamo... stiamo cercando di ottenere conferma. Ma sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno... Oh no! Rapporti confermati... Rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Oh mio Dio! Dobbiamo andare al volta! Subito! Ho preso Sean. Andiamo! Abitanti di Century Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Bode 111. Le Bode stanno per arrivare! Sì, sì, sì! Da questa parte, tutti gli abitanti del Bode! Lascia le valigie, che importa? Aiutami a portare tutto! Abitanti di Century Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Bode 111. Se siete nel programma Bode, andate anche al cielo! È assurdo! Io sono la volta! Non puoi entrare! Io entrerò! Non potete fermarmi! Sì, sì, sì! Oh, 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 oh! Ok, ok! Fanno entrare te e non me! Qualcuno mi sentirà! Dobbiamo entrare! Siamo sulla lista! Bambino, uomo adulto, donna adulta... Ok, procedendo! Grazie! Buona fortuna, signora! Seguitemi, forza! Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile! Non vi fermate! Salite sulla piattaforma! Al centro! Ci siamo quasi! Ce la caveremo! Vi amo! Tutti e due! Ti amiamo anche noi! Oh, mio Dio! Vieniti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio! 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 Oddio!